1.000 persone e 700 veicoli controllati, due arresti e 20 ragazzi fra i 18 e 20 anni sorpresi in possesso di droghe nei pressi di locali e discoteche con conseguenti segnalazioni alla prefettura. E' questo il bilancio dei massicci controlli dei carabinieri di Pesaro, Fano e Urbino durante le festività di Ferragosto. Controlli che hanno portato a sequestrare complessivamente 100 grammi di hashish e 30 di cocaina. Gli sono stati anche due arresti a Pesaro e Fano per altrettante persone colte in flagranza di reato di spaccio, così come due persone denunciate in stato di libertà, una delle quali sorprese mentre cedeva droga a un minorenne. E inoltre uno straniero è stato denunciato per non aver ottemprato un decreto di espulsione e altri due sono stati segnalati a piede libero all'autorità giudiziaria per furto di rame e minacce. Altri tre giovanissimi sono stati denunciati a Pesaro in quanto sorpresi in sella, scute risultati rubati e poi restituiti ai legittimi proprietari. Altri quattro ragazzi sono stati deferiti per guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Servizi di controllo alla circolazione stradale che hanno visto elevare anche 60 contravvenzioni, ritirare otto patenti e sottoporre a fermo amministrativo quattro autovetture.